Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta noir con crema alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, latte, olio d'arachidi, zucchero, uova, lievito, vanillina, scorza di limone e una dose di crema alle fragole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Le facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spadola, aggiungiamo le uova, il latte, l'olio, la farina, il lievito e la vanillina. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 6. L'impasto è pronto. Fersiamolo in uno stampo del diametro di 24-26 centimetri ben imburrato. Mettiamo adesso la crema alle fragole a cucchiaiate nell'impasto. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta Noire con crema alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!